Ci sono segnali che vanno interpretati e così la prima sconfitta del Bari dopo sette risultati utili consecutivi con il nuovo record di spettatori per questa stagione di Serie B con 32.000 presenze al San Nicola era un presagio per l'asta deserta di questa mattina nell'acquisizione della società dichiarata fallita un mese fa. C'era il sogno playoff da inseguire nella sfida contro il Latina che dal suo canto balza al secondo posto in classifica proprio con il successo sui biancorossi ed invece ci si ritrova riportati sulla terra in campionato con i 50 punti da conquistare per la salvezza e un futuro ancora incerto sul piano societario. Le due questioni non sono per nulla distinte e separate visto che il Bari in queste ultime settimane ha dato l'impressione di giocare in scioltezza anche psicologica quasi volesse mettersi in mostra di fronte ai nuovi padroni. Per questo se ne riparlerà il 12 maggio per la salvezza c'è da rimettersi in corsa già sabato prossimo provando a dimenticare la sconfitta contro il Latina che dimostra di essere avversario tosto e cinico capace di colpire alla prima occasione utile con la conclusione di Bruno che incoccia sul corpo di Cepitelli e batte Guarna. La reazione del Bari c'è ma è più rabbiosa che ragionata. Nadarevic impegna Iacobucci con una girata appena dentro l'aria di rigore, Galano esalta i riflessi del portiere Pontino con la conclusione dalla distanza. Poi è Joao Silva non inquadrare lo specchio della porta con questa girata di testa. Il Latina attende e riparte sfiorando il raddoppio prima di riposo con Paolucci che non ci arriva ad un soffio sul cross radente di Alassan. La voglia del Bari di paleggiare non manca, latita invece la precisione a Schaudone sottoporta sul suggerimento di Galano. Ci prova Polenta di testa ma è attento Iacobucci che se la cava anche nella mischia successiva, poi il portiere del Latina ci mette i pugni per respingere la botta dalla distanza di Sabelli. L'ultimo tentativo è affidato a Defendi fuori misura a conferma di una serata storta chiusa dall'applauso dei 32.000 del San Nicola che non hanno colto i segnali di cattivo presagio per l'asta deserta di questa mattina.